Musica Ben trovati all'appuntamento condetto al consiglio il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana ampliamo gli orizzonti, spesso parliamo anche dell'Europa ed è il primo tema di questo nostro appuntamento infatti i fondi europei arrivano 2 miliardi e 300 milioni in 7 anni verranno gestiti direttamente dalla Toscana, arrivano dall'Europa poi parleremo di Mazzeo che vuole sostenere le imprese dell'innovazione nella loro crescita con un incontro che si è tenuto appunto in Palazzo del Pegaso e poi Dante Scart, arte e rifiuti per un futuro possibile una mostra molto molto interessante il primo argomento quindi riguarda l'economia nei prossimi 7 anni la Toscana avrà 1 miliardo e 229 milioni dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 1 miliardo e 83 milioni invece dal Fondo Sociale Europeo e 143 milioni di euro da un altro stanziamento dell'Europa il programma europeo Italia-Francia Marittimo è stato proprio il Presidente della Regione Eugenio Gianni a dare comunicazione al Consiglio regionale nella seduta di martedì 28 settembre in merito alla decisione del 26 luglio del 2021 regolamento del Parlamento Europeo del Consiglio di Programmazione Europea 2021-2027 e quindi l'approvazione principale delle linee strategiche ascoltiamo quindi il Presidente Gianni e poi il commento dei consiglieri regionali è evidente che si tratta di quattro fondi e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante il FESRE, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in questo caso noi abbiamo davvero nel miliardo e 2 del FESRE tutte le condizioni per poter operare come rescita diciamo così la voce divisa dello stanziamento un'Europa più intelligente, un'Europa più verde un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa e in questo caso noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti ma abbiamo rispetto al Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione sul FESRE noi puntiamo molto sui fondi per lo sviluppo, l'investimento, l'adeguamento delle imprese e devo dire che pioveranno sulle imprese in Toscana più di 500 milioni in questi 7 anni contemporaneamente puntiamo molto sull'altro il secondo fondo, il Fondo Sociale Europeo per arrivare a quell'obiettivo che io mi prefiguro fra un anno o due di una bella quantità di risorse per garantire alle famiglie che hanno 30, massimo 40 mila euro di reddito annuo la possibilità dell'asilo gratis per i loro bambini che vi è in questo Fondo Sociale Europeo tante risorse per quello che sono i fondi per l'occupazione le politiche attive del lavoro devo dire che poi su quello che riguarda i fondi europei noi metteremo e giocheremo molto nell'infrastrutturazione soldi per la tramvia, per le piste ciclabili, per mezzi ecologici e vi sarà quel respiro che consente anche da un punto di vista di investimenti infrastrutturali per l'innovazione di avere tante risorse per poter consentire alla pubblica amministrazione di rinnovare quelle che sono le forme di rapporto con il cittadino proprio puntando sulla infrastrutturazione digitale Riteniamo che i fondi comunitari siano la forza del nostro agire le risorse comunitarie certe, queste sono sicure dobbiamo programmarle, dobbiamo creare sviluppo, lavoro consentire ai territori periferici di avere nuove opportunità consentire alle grandi città di diventare città di carattere europeo ma soprattutto tenere fede ai nostri impegni rispetto ai giovani, rispetto agli anziani, rispetto al sociale rispetto agli impegni culturali dobbiamo fare una Toscana che anche nella svolta ambientale sia protagonista a livello europeo con queste risorse faccia uno scatto in avanti richiamo di queste ore anche della richiesta dei giovani di avere più ambiente, una Toscana più innovativa e poi soprattutto infrastrutture e lavoro credo che siano i cardini dell'allocazione di queste risorse c'è intanto un dato di fatto positivo che mi fa piacere sottolineare evidentemente chi ha preceduto questa giunta o non era così tanto capace di fare le trattative in sede europea o in sede di assemblea Stato-Regioni oppure non era in grado di spendere in maniera opportuna i soldi visto che il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi sette anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi sette anni quindi il grande governatore Rossi che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta quindi questo è sicuramente un dato positivo poi ci sono tutti i dati negativi i dati negativi sono il fatto che la regione toscana è ancora lontana anni luce dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti ne dico una su tutti si parla tanto di mobilità sostenibile la Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale la Lombardia ne ha il doppio il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana nonostante sia la fonte maggiore di gas serra ed è ancora lontana anni luce la Toscana è la conversione sul trasporto ecosostenibile rispetto alle regioni virtuose del nord si parla di adeguamento di strutture alla normativa antisismica ma si parla soltanto di strutture sanitarie ospedaliere che per l'amor di Dio hanno bisogno di essere adeguata ma non c'è una parola o una sulle strutture scolastiche noi abbiamo ancora scuole in Toscana che sembrano essere uscite dal libro cuore dell'Ottocento quindi c'è ancora tanto da fare la speranza è che visto che sono arrivati tanti soldi in tutto sono quasi 3 miliardi di euro da destinare alla regione toscana che questa giunta faccia le scelte giuste è vero, è giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia ecco noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare la Toscana non ha bisogno di galleggiare la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere ad elevarsi a regione guida perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana il ruolo della regione sarà importante in questo senso creare un'armonizzazione nel prevedere gli interventi verso le priorità con la coerenza alla possibilità di utilizzo di questi fondi che sta alla fonte e importante sarà anche aiutare tutti i soggetti che sono competenti a fare progettazioni perché sia per quanto riguarda il PNRR sia per quanto riguarda i fondi europei sarà importante sviluppare una capacità propositiva una capacità progettuale da questo punto di vista noi abbiamo sollecitato in passato la creazione di un fondo per la progettazione siamo a sollecitarlo nuovamente perché è importante non soltanto individuare le linee strategiche non soltanto creare un coordinamento ma soprattutto aiutare la Toscana ad essere maggiormente operativa per cogliere queste risorse Spesso si sente parlare delle start-up innovative ma che cosa sono? Sono semplicemente una fase iniziale possiamo dire di una piccola impresa che però ha un'idea innovativa quindi spesso sono i giovani che hanno questa idea però non hanno i fondi per realizzare diciamo così una vera e propria impresa e allora proprio anche per aiutare le start-up adesso sappiamo cosa significa c'è il Consiglio regionale della Toscana si è tenuto nell'auditorium del Palazzo del Pegaso l'incontro con le start-up appunto che si sono aggiudicate i primi contributi della nuova legge regionale infatti è trascorso un anno e mezzo dall'approvazione della nuova legge a sostegno delle imprese start-up innovative delle quali Antonio Mazzeo è stato il primo firmatario nella passata legislatura il presidente dell'assessore regionale all'attività produttive Leonardo Marras hanno incontrato le start-up che si sono aggiudicate il primo bando della nuova legge sono state assegnate questi contributi 37 progetti ammessi 1.750.000 euro di risorse erogate favorire la ricerca di fondi e alleggerire la rendicontazione è quello che chiedono le imprese il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha ribadito invece che le istituzioni sono sempre e comunque al loro fianco io penso che il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita dall'inizio quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cup con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo cioè se un investitore privato investe 100 la Regione fa altrettanto all'interno delle imprese dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione loro devono pensare a costruire il business a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative perché non hanno neanche le competenze al proprio interno e poi incentivare ancora con più forza la figura del temporary manager cioè le aziende, quelle più piccole hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato credo che ciascuno di noi debba continuare a mandare un messaggio forte come istituzioni che noi siamo al fianco di chi vuole scommettere su costruire nuovo lavoro nuova occupazione abbiamo ascoltato anche tante cose che possono essere migliorate però nelle parole delle ragazze e dei ragazzi da quelli più giovani a chi ha più esperienza c'è l'idea di questa Toscana della nostra Toscana una Toscana che vuole scommettere sul futuro che vuole scommettere sull'impresa sul lavoro di qualità a noi il compito di sostenerli il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge dissi con chiarezza noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare imprese e vuole scommettere sul proprio futuro ci auguriamo speriamo che attraverso le competenze di Talessa Legna Space coniugate con le nostre si possa anche andare in questo mercato della New Space Economy non è vero perché ormai ci saranno anche gli hotel nello spazio per danarosi personaggi che vogliono sperimentare la vita nello spazio e questi danarosi personaggi noi pensiamo che vorranno andare nell'hotel migliore e l'hotel migliore sarà quello che potrà offrire insieme all'emozione di vedere la terra di lontano anche un buon cibo non soltanto i cibi in pillole non è vero invece di pensare agli alberghi nello spazio torniamo alla terraferma e soprattutto una bella mostra arte e rifiuti due mondi solo apparentemente distanti che si incontrano e si confrontano questo è SCART il lato bello del rifiuto Dante e la Divina Commedia un progetto artistico del gruppo ERA che è stato inaugurato al centro expo di Via dei Pucci a Firenze quindi questa mostra celebra il 700esimo di Dante con grandi tavole alcune sculture realizzate con materiale di recupero dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze di Carrara e di Ravenna e alcuni ragazzi della comunità di San Patrignano l'esposizione realizzata in collaborazione con il Consiglio regionale è visitabile fino al prossimo 22 di ottobre io sono emozionato entrando nel vedere come il messaggio potente di Dante si può attualizzare si può attualizzare proprio per il tempo che stiamo vivendo la potenza di quel messaggio arriva oggi e pensare che attraverso il riuso il riciclo il rutilizzo si possa costruire arte e cultura è qualcosa di enorme di enormemente bello sapere davvero che noi possiamo lavorare tutti insieme nella direzione di costruire un mondo migliore è ancora più bello io sono onorato che oggi si inauguri questa mostra e spero davvero che possano venire tante ragazze e tanti ragazzi ad apprezzare la bellezza dell'arte della storia della cultura ma anche a capire fino in fondo che se ognuno fa la sua parte attraverso il riciclo il riutilizzo si può costruire un mondo migliore anche se si sta parlando di in questo caso di incisioni di Gustave Doré però interpretate dalle mani di tre accademie diverse quindi a questo progetto hanno lavorato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna e di Carrara oltre a tre teste realizzate dai ragazzi di San Patrignano ecco si vede proprio si percepisce la mano la cultura delle diverse accademie mi riferisco per esempio alla testa di Dante realizzata dall'Accademia Fiorentina dove si vede una testa molto pop perché è la concentrazione di molti rifiuti di varie tipologie di rifiuti provenienti da tante attività industriali a questa vicino a me dell'Accademia di Carrara realizzata con gli scarti delle scaglie di marmo delle sculture che fanno in Accademia e l'ultima l'Accademia di Ravenna dove si percepisce benissimo la mano dei mosaicisti ravennati quindi tre culture di tre filoni diversi ma che rappresentano allo stesso modo un messaggio importantissimo il progetto ha una storia più che ventennale e quindi ce ne sono state nel passato che avevano un'ambientazione non così fiorentina nel senso che quello che forse è particolarmente importante di questa mostra è che la facciamo in casa della persona a cui era dedicata e quindi questo è un dato caratteristico tutte le altre mostre avevano un rapporto meno esplicito meno diretto e questo certamente impreziosisce l'essere qui a Firenze per onorare da un lato il grande poeta ma anche dall'altro quella che è la sua opera più famosa e così si conclude il nostro appuntamento vi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti www.consiglio.regione.toscana.it vi aspetto come sempre qua tra sette giorni dentro il consiglio www.consiglio.org